Pietro Leopoldo è il protagonista di quel risanamento da un punto di vista idraulico della Val di Chiana che portò alle bonifiche, ma non solo sotto l'aspetto idraulico, anche sotto l'aspetto architettonico. Le Leopoldine, che ormai sono un patrimonio universale, ovvero quelle fattorie che venivano organizzate sapientemente attraverso il lavoro che poi ha portato la Mizzadria e conseguentemente il governo di un territorio che è diventato il granaio della Toscana, direi dell'Italia in certe fasi, erano opere architettoniche attentamente studiate e ben organizzate che ancora oggi danno il senso di un'identità fortissima nella Val di Chiana alla bellezza che questo territorio rappresenta. Quindi il fatto che Mario Agnelli, l'amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino, abbia voluto dedicare lo stradone, che qui significa molto, a Pietro Leopoldo è stato un bellissimo gesto e oggi ho voluto essere qui perché è una festa per Castiglione Fiorentino ma è una festa per tutta la Toscana. Sono significative entrambe le cose ed è significativo che il governatore della Toscana sia qui in questo momento ufficiale della intitolazione dello stradone. È sintomatico di un territorio che ha una potenzialità ancora, mi sento di dire, inespressa, ma probabilmente anche grazie alla presenza di questo gruppo importante, un'eccellenza, vorrei dire, non solo toscana ma un'eccellenza italiana nel mondo, noi si possa comunque valorizzare la nostra Val di Chiana e il territorio di Castiglione Fiorentino. Diciamo che oramai la Val di Chiana per noi è un territorio fondamentale, strategico, sono circa 800 gli ettari che gestiamo, più il nuovo centro, l'arboreto, la ristrutturazione delle Leopoldine, quindi vediamo in questo territorio una grande potenzialità e speriamo che anche con il nostro contributo si riesca a orientare l'intera comunità verso un'idea di sviluppo sostenibile che faccia di questo territorio un punto di riferimento anche per il futuro, una nuova visione dell'agricoltura. Te ringrazio il Presidente, ringrazio il Sindaco Mario Agnelli perché l'idea di intitolare lo Stradone a Pietro Leopoldo che è stato l'artefice della bonifica e anche colui che ha dato il nome a quelle che poi sono e qui nello Stradone ce ne sono ben sette le Leopoldine, una caratteristica essenziale di questo territorio sulle quali noi stiamo investendo con un progetto di ristrutturazione che rispetti le caratteristiche storiche perché comunque pensiamo ci sia un valore culturale importante da ricollegare poi ad iniziative sulle quali stiamo lavorando che abbiano e possano mettere insieme l'idea del turismo, l'idea della salute. Per questo un territorio può essere valorizzato integralmente sotto tutti questi aspetti.